Paladini, vi ricordo che ho aperto un server su Discord, rispetto a prima la modalità di entrata è cambiata, se volete entrare contattatemi sulla pagina Facebook o Instagram, detto questo mi lascio al video. Per tregua di Natale si intende una serie di cessate al fuoco non ufficiali avvenuti nei giorni intorno a Natale del 1914 in varie zone del fronte occidentale della prima guerra mondiale. La vigilia di Natale un gran numero di soldati tedeschi ed inglesi lasciarono spontaneamente le trincee fraternizzando nella terra di nessuno. I soldati seppellirono i caduti, celebrarono cerimoni religiose e giocarono a calcio. L'evento non fu né organizzato né diffuso poiché in altre zone del fronte i combattimenti continuarono. La fraternizzazione tra opposti schieramenti venne malvisto dagli alticomandi che infatti proibirono le tregue. Nel corso del Natale del 1914 circa 100.000 soldati tra britannici e tedeschi furono coinvolti in un certo numero di tregue spontanee lungo i rispettivi settori nelle fiandre. I primi episodi ebbero luogo durante la notte della vigilia quando soldati tedeschi iniziarono a porre decorazioni natalizie nelle loro trincee nella zona di Ypres. I soldati tedeschi iniziarono a cantare tipiche canzoni di Natale e dall'altra parte del fronte i soldati britannici risposero con altre tante canzoni. Dopo poco tempo i soldati di uno e dell'altro schieramento presero ad attraversare la terra di nessuno per scambiarsi i doni con la controparte. In molti casi gli episodi di fraternizzazione proseguirono anche la mattina di Natale. Diversi gruppi di soldati dei due schieramenti si incontrano nella terra di nessuno per scambiarsi i doni e scattare fotoricordo. Il livello di fraternizzazione fu tale che vennero persino organizzate improvvisate partite di calcio tra i soldati. La tregua inoltre consentì di recuperare le salme dei propri compagni rimaste abbandonate nella terra di nessuno. Nei settori del fronte interessati dalla tregua non si verificarono combattimenti su vasta scala e l'artiglieria rimase muta per tutto il periodo natalizio. La tregua durò soltanto per il giorno di Natale, anche se in alcuni casi proseguì fino a Capodanno. Gli eventi della tregua del 1914 non furono riportate media per giorni, fino a che il 31 dicembre al 1914 il New York Times ruppe la censura. I giornali britannici riportarono numerosi resoconti degli stessi soldati. Dall'8 gennaio 1915 il Daily Mirror e il Daily Sketch iniziarono a pubblicare le prime foto degli eventi e si espressero fortemente a favore dell'evento. La copertura dell'evento in Germania fu più smorzata. Molti giornali espressero critiche nei confronti dei soldati partecipanti alla tregua e nessuna immagine dell'evento fu pubblicata. In Francia l'unico resoconto degli eventi venne dai racconti dei soldati al fronte o da quelli feriti. All'inizio del gennaio del 1915 furono pubblicate dichiarazioni ufficiali sulla tregua di Natale, tendenti a minimizzare la portata degli eventi. In Italia, il 30 dicembre 1914, il Corriere della Sera parlò della fraternizzazione tra le opposte trincee, riportando la lettera di un disegnatore tedesco in Italia. La notizia venne in larga parte oscurata da altri avvenimenti, che si verificarono contestualmente o di lì a breve. E voi eravate a conoscenza di questo evento? Colgo inoltre l'occasione per porvi un felice Natale e un sereno anno nuovo. Mi raccomando poi non dimenticate di passare per le pagine, canali, link in descrizione. Ciao ciao e al prossimo video! Grazie a tutti!